Nella Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina della Pace, per la pace nel mondo. Cristo Gesù, Principe della Pace, illumini i reggitori dei popoli affinché custodiscano il grande tesoro della pace come primo bene da difendere e garantire. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne. E bene ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo il fondo del nostro spirito, la tua grazia, oh Padre. Tu che nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, per l'intercessione, e beata Vergine Maria, guidaci la gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Ave, piena di grazia. Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero doloroso, meditiamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi e su da sangue. Pater nostro, qui sinceri, santifici eto noventum, a te bene, a regno un tu, fia ta voluntas tua, secuti in cielo e in terra. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Ave Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominos tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta Tui mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero doloroso, meditiamo Gesù che viene fragellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero doloroso meritiamo Gesù che viene incoronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. in Tigrino. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nel quarto mistero doloroso. Amen. Nel quarto mistero doloroso, meditiamo Gesù che sale il Calvario carico della croce e incontra Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Je vous salue, Marie, pleine di grasse. Le Seigneur è con voi. Voi siete beni in tutte le fami, e Gesù, il fruito dei vostri entrati, è beni. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. In Tamil, Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuvum Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuv Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuv Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Arunirenda Maria e Valga, Andover Mudane, Pengal Kula Asurvedike Pattavol Nire, Mdietruveitin Kaniyaya Eesuv Asurvedike Pattavare. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre Misericordia, Salve Regina, Madre Misericordia Pattavol Nire, Mdietruveitina Pattavol Nire, Mdietruveitina Pattavol Nire, Mdietruveitina Pattavol Nire, Mdietruveitina Pattavol Nire. Salve Regina, Madre Misericordia Pattavol Nire, Mdietruveitina 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 Nobis, posto che exili uno stendere, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Prega per noi, Specchio di Perfezione, Prega per noi, Sede della Sapienza, Prega per noi, Fonte della nostra gioia, Prega per noi, Tempio dello Spirito Santo, Prega per noi, Tabernacolo dell'eterna gloria, Prega per noi, Dimora consacrata a Dio, Prega per noi, Rosa Mistica, Prega per noi, Torre della Santa Città di Davide, Prega per noi, Fortezza inespugnabile, Prega per noi, Santuario della Divina Presenza, Prega per noi, Arca dell'Alleanza, Prega per noi, Porta del Cielo, Prega per noi, Stella del Mattino, Prega per noi, Salute degli Infermi, Prega per noi, Refugio dei Peccatori, Prega per noi, Conforto dei Migranti, Prega per noi, Consolatrice degli Afflitti, Prega per noi, Aiuto dei Cristiani, Prega per noi, Reggina degli Angeli, Prega per noi, Reggina dei Patriarchi, Prega per noi, Reggina dei Profeti, Prega per noi, Reggina degli Apostoli, Prega per noi, Reggina dei Martiri, Prega per noi, Reggina dei Confessori della Fede, Prega per noi, Reggina delle Vergine, Prega per noi, Reggina di tutti i Santi, Reggina concepita senza peccato, Reggina assunta in cielo, Reggina del Rosario, Reggina della Famiglia, Reggina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Perdonaci, Signore, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la intercessione gloriosa della Beatissima Semprevergine Maria. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci la gloria senza fine. Per Cristo nostro Signore. Preghiera alla Beata Vergine Maria, pagina numero 3 Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti e i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberasci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiera a San Michele Arcangelo San Michele Arcangelo, difendici nella lotta. Sì, il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio domini, e tu, Principe della Milizia Celeste, col potere che diviene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si agilano per il mondo per far perdere le anime. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dono al loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Per l'intercessione, Beata Vergine Maria, su di voi, sulle vostre famiglie, sugli ammalati e sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica e vi accompagni sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Vergine Purissima, Ave, o Maria, o Madre Morosissima, Ave, o Maria. Tu che tutto puoi, ricordati di noi, presso il trono dell'Altissimo. Tu che tutto puoi, ricordati di noi, presso il trono dell'Altissimo. Abbiamo trasmesso, dalla Santa Casa di Loreto, l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.